Andavo in giro per le strade a cercare i manifesti. Mi sono resa conto che cominciava a essere un'espressione precisa del femminile e dava anche una lettura precisa dei tempi e tutto questo è naturalmente durato per un paio d'anni dal 78 all'80. Non sapevo che dopo due anni e mezzo sarebbe sparito tutto con l'avvento di cicciolina, di lona staller, anche delle tecnologie che hanno superato questo tipo di visione. Grazie.